Buongiorno, eccoci, giorno numero 7, mercoledì 10 agosto, siamo appena arrivati a Monaco di Corriera, siamo parcheggiati all'Allianz Arena, che si vede alle nostre spalle, ci facciamo un attimo un giretto a piedi, poi capiamo come raggiungere la città, intanto questa è l'area camper. L'area camper è quella laggiù in fondo, 15 euro 24 ore, carico scarico e corrente in teoria, ma la corrente è abbastanza, si fa fatica ad arrivarci con i cavi, quindi ci affideremo il potere solare. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! buongiorno siamo appena fuggiti dal centro di marco che c'era un pletone di gente impossibile entrare in quel sensibilità impossibile camminare impossibile far tutto e che ne abbiamo proteso per farci mezzarete a piedi e venire al via di a te lo da giù un bravo spettacolo qui calmo serenità birra fresco c'è e quindi via buongiorno giovedì 11 agosto giorno numero 8 l'abbiamo lasciato stamattina l'allianza arena ieri abbiamo visitato monaco guarda dio di gente allucinante abbiamo lasciato l'allianza arena siamo in direzione ma vediamo se oggi facciamo un giorno off per risuscitare il vecchio qua dietro ecco l'è lì ieri fra metropolitana e il casino in centro ha avuto la sua bella giornata ora cerchiamo un carico scarico teoricamente ne abbiamo trovato uno gratuito perché all'allianza anche noi cerchiamo trovato scarico e carico gratuito in strada per andare a fu se vi lasciamo sempre la posizione trovato su park for night scarico grigie acqua potabile acqua non potabile e dc a cassetta c'è tutto quanto saluta o marie buongiorno oggi dovevamo essere a fussen a visitare il famoso castello tutto quello che c'è da vedere ma sembrava di essere a riccione c'era una miriade di gente al di là del fatto che parcheggia le soste alla sosta sinceramente abbiamo rischiato perché c'è un portato via l'ultimo posto due secondi prima quindi va bene sfortuna parcheggi non ne parliamo assolutamente abbiamo provato un parcheggio libero ma ci è stato gentilmente chiesto di non passare la notte e quindi abbiamo fatto due conti e ben deciso di proseguire la nostra strada verso la tappa che avremmo fatto dopo che sarà di nuovo in italia e siamo quindi ritornati in suolo austriaco e abbiamo trovato camper eccolo lì è il parcheggio enorme di un impianto di risalita gratuito c'è una piccola baiutina dove ci stiamo vedendo è un freddo della madonna questo è la tappa più fredda un recinto di buche dietro il canale a tutti i prospetti per essere una buona sorta di generante ci premiamo un giorno di pausa e domani ripartiamo per il restante vi facciamo un po vedere la zona vi lasciamo la posizione sempre trovata sul park fornite quindi grazie a chi l'ha segnalata e basta a presto a presto Buon giorno. Buongiorno a tutti, venerdì 12 agosto, ci prepariamo stamattina, stiamo partendo, lasceremo le Austria, dove abbiamo dormito stanotte, in direzione Resia, quindi rientriamo in Italia per poi pian piano tornare a casa. Il posto bellissimo, ci siamo svegliati coi campanacci delle mucche. Ah, coi campanacci delle mucche! Adorbo. Ciao! Ciao! Buongiorno! Buongiorno! Ciao! Sabato 13 agosto e qua in Lapponia si sta benissimo! Scherzo dai, siamo al Passo di Resia, siamo arrivati ieri, ma il tempo non era bellissimo quindi siamo rilassati ieri pomeriggio e siamo partiti presto stamattina per andare giù al lago. Ecco, c'è questa pedonale bellissima. Abbiamo parcheggiato proprio su al Passo, vi lasciamo le apposizioni, poi facciamo vedere, parcheggio libero, gratuito. Ci sono altri camper. Eravamo tipo una quindicina di camper stanotte a dormire, quindi si può. C'è una pizzeria che consiglio se volete prendere una pizza. C'è questa pedonale stupenda che ti porta fino al lago in circa una mezz'oretta. C'è questa pizzeria che libero, sulla qutà nella buorsa. questa è la ciclo pedonale che ci porterà al parcheggio il parcheggio è più o meno lì e il lago lo vedete in fondo la questi sono i due parcheggi dove potete fermarli a dormire questo è il primo in direzione austria e di là della strada c'è il nostro in direzione italia bar café daniel buona pizza se volete fermarvi a cenare niente gratuito mezz'ora dal lago a piedi e basta dieci e mezza di mattina già fatto 12 chilometri a piedi caffettino e poi lasciamo basso di regia ci andiamo verso prato allo stelvio dove incontreremo due amici ciao lara ciao giovanni e ci rilassiamo un po ma vuoi che la sfortuna non sia dalla nostra parte impossibile la mattina seguente ci svegliamo per andare allo stelvio a trovare i nostri amici nel ho aperto il gaboncino per chiudere le bombole del gas e ciao chiave mi è rimasta in mano la chiave la facciamo vedere l'impressione si è proprio rotta a metà con la porta aperta la stessa chiave apre chiude il gabone principale che fortunatamente è rimasto chiuso quindi abbiamo imparato che bisogna portarsi sempre via il doppione la chiave di scorta con una soluzione alternativa abbiamo nastrato la porta delle bombole il panno bombole siamo andate allo stelvio abbiamo mangiato una pizza con i nostri amici e il mattino seguente abbiamo deciso di ovviamente tornare a casa eravamo a due orette e mezza da casa e quindi abbiamo interrotto prima il nostro viaggio ma comunque poteva andare peggio il nostro giro grosso l'abbiamo fatto e siamo stati contenti così niente basta vi lasciamo con le immagini finali del viaggio di ritorno più o meno a parte dello stelvio e di merano forest forest e niente lasciamo tutti i posti dove sia stati in descrizione al prossimo video nel frattempo restauriamo il camper su dei laboretti che eravamo ci sentiamo detto questo alla prossima buona ferie a tutti buon inizio a tutti di lavoro e tutto quanto ciao 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 ciao